Bentornati amici di Tons, oggi facciamo una sorta di sbalzo temporale perché in questo momento io sono ufficialmente a Londra per seguire in presa diretta la presentazione dei nuovi Galaxy S20, S20 Plus ed S20 Ultra, appena di fatto ufficializzati da Samsung, ma in realtà ho avuto modo di toccarli con mano in anteprima qualche giorno fa in maniera molto veloce e quindi oggi sono pronto a raccontarveli. Vi anticipo subito che si tratta di smartphone ovviamente top di gamma che di fatto vanno ulteriormente ad alzare l'asticella nel settore proprio a livello tecnico soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. In ogni caso non voglio spoilerarvi nulla e andiamo a conoscerli più da vicino. Dunque partiamo innanzitutto dal Galaxy S20 e dal Galaxy S20 Plus che come vedremo condividono tra di loro gran parte della scheda tecnica. Di fatto rappresentano i eredi diretti del Galaxy S10 e dell'S10 Plus mentre in qualche modo l'S20 Ultra fa un po' una partita a sé stante ma poi avremo modo di vederlo più da vicino. Dunque parliamo del Galaxy S20. Galaxy S20 con display da 6,2 pollici, risoluzione QHD Plus, supporto allo standard HDR10 Plus e refresh rate a 120Hz. Refresh rate a 120Hz che ritroviamo anche nel display dell'S20 Plus e dell'S20 Ultra. Per quanto riguarda la piattaforma hardware abbiamo a disposizione 8 o 12 GB di RAM accoppiati a 128 GB di memoria interna, ovviamente espandibile tramite microSD. Il processore per l'Europa dovrebbe essere un Exynos, 7 nanometri, architettura octa-core ma ovviamente per tutti i dettagli vi rimando poi all'articolo che vi linkiamo in descrizione. Prima impressione per quanto riguarda il display, a questo vale per tutti e tre i display, sono display Dynamic AMOLED, devo dire davvero display di altissimo livello. Dal mio punto di vista potremmo essere di fronte a un nuovo punto di riferimento per il settore smartphone per quanto riguarda gli schermi. Samsung ci ha abituati benissimo da questo punto di vista ma ripeto è ancora troppo presto per poter esprimere un giudizio definitivo ma la prima impressione è davvero di altissimo altissimo livello. Come ho detto in fase di introduzione, particolare focus sulla parte fotografica, per quanto riguarda l'S20 abbiamo sul retro tre sensori disposti diciamo con questa disposizione rettangolare che di fatto era stata già ampiamente anticipata da arrivare in descrizione di cui vi abbiamo parlato anche su TOMS. In particolare l'S20 ha a disposizione un sensore principale da 12 megapixel f2.2, accoppiato a un secondo sensore sempre da 12 megapixel, questa volta f1.8 stabilizzato otticamente e con ottiche grande angolari, e poi abbiamo il terzo sensore da 64 megapixel f2.0, anche questo stabilizzato otticamente, in questo caso teleobiettivo che abilita uno zoom ottico 3x e uno zoom ibrido che può spingersi fino ai 30x. Devo dire che per quel poco di tempo che ho avuto a disposizione per provare anche la parte fotografica, devo dire che lo zoom dà l'impressione di tenere molto molto bene il dettaglio anche quando viene spinto al limite. Ovviamente poi ve ne parleremo in maniera approfondita in serie di recensione, ma anche qui la prima impressione è davvero di altissimo livello. Per quanto riguarda poi la fotocamera anteriore abbiamo un sensore da 10 megapixel, che devo dire anche questo mi ha fatto una buona impressione per quei due o tre scatti insomma che ho avuto modo di poter effettuare. Tutto è alimentato da questa batteria da 4000 mAh, ovviamente scontata la presenza della ricarica rapida e della ricarica wireless, c'è la certificazione IP68, mentre per quanto riguarda l'autenticazione nello smartphone avremo a disposizione sensore biometrico e ovviamente riconoscimento facciale, anche se non sarà un riconoscimento facciale voluto essendoci appunto soltanto la fotocamera anteriore. Di questo S20, al di là ovviamente di tutte queste eccellenti caratteristiche tecniche, mi ha convinto soprattutto la trasportabilità, perché abbiamo un prodotto da 163 grammi che si tiene molto bene in mano, il display da 6,2 pollici è comunque incastonato in un corpo con pochissime cornici, per cui insomma devo dire da questo punto di vista davvero un bel lavoro da parte di Samsung, potrebbe essere un po' la sorpresa in ottica commerciale questo S20 standard. Per quanto riguarda invece l'S20 Plus, abbiamo il display che da 6,2 sale a 6,7, la RAM sempre da 8-128, ma in questo caso abbiamo a disposizione due tagli di memoria, 128 o 512 GB, processore identico, è sempre un Exynos da 7 nanometri octa-core, almeno per quanto riguarda la variante europea. Sul retro, stesse fotocamere, stesso livello di zoom, viene semplicemente aggiunto un quarto sensore sul retro, che è un sensore di profondità. Per quanto riguarda la batteria, si passa da 4.000 a 4.500 mAh, e anche qui come al solito ricarica wireless, ricarica rapida, in questo caso il peso sale a 186 grammi, che insomma si sentono, però devo dire anche l'S20 Plus continua a essere tutto sommato maneggevole, maneggevole, insomma è allineato a quelle che sono ormai le dimensioni a cui siamo abituati in ambito smartphone. Veniamo però a, come dire, ai prezzi di vendita, a quelli che saranno i prezzi di lancio di questi dispositivi. Per quanto riguarda l'S20, avremo versione da 8-128 4G, quindi LTE, che verrà posizionata a 929 euro, mentre per la versione da 12 giga di RAM, 128, con connettività 5G, saranno necessari 1029 euro. Quattro le colorazioni, grey, blue, pink e white, con quest'ultima che sarà un'esclusiva di Samsung.com. Passiamo invece ai prezzi del Galaxy S20 Plus. Si parte dalla versione 828, anche questa 4G, a 1029 euro. Si passa alla versione da 12-128, in questo caso 5G, da 1129 euro. E infine abbiamo la terza versione, 12 giga di RAM, 512 giga di memoria, 1279 euro, quest'ultima esclusiva di Samsung.com. Anche qui saranno quattro le colorazioni, black, grey, blue e white. In questo caso, anche quest'ultima colorazione esclusiva di Samsung.com. Insomma, prezzi certamente importanti, diciamo allineati con quello che è ormai il livello raggiunto dai top di gamma, con le varianti 5G che, chiaramente, vista la presenza del nuovo standard di rete, di fatto vengono posizionati a un livello più alto. Ma, come andremo a vedere, l'S20 Ultra raggiunge prezzi anche più elevati, in quanto, appunto, abbiamo, in alcuni casi, delle differenze per quanto riguarda la scheda tecnica. Passiamo all'S20 Ultra, che è un po', diciamo, la novità, il dispositivo fuori dagli schemi, rispetto a quello che è solitamente la proposta di Samsung, per quanto riguarda la serie S. Perché è un prodotto fuori dagli schemi? Beh, perché ha a bordo uno schermo da 6,9 pollici, anche qui QHD+, HDR10+, 120Hz di refresh rate. Quindi, insomma, un display davvero molto grande, che, in abbinata al comparto fotografico molto particolare, che vedremo fra un po', contribuisce a far arrivare il peso di questo smartphone a ben 220 grammi. E devo dire che in mano si sentono tutti. È uno smartphone alto 166.9 mm e, per darvi un metro di paragone, l'iPhone 11 Pro Max è alto 158 mm. L'iPhone 11 Pro Max è un dispositivo già importante a livello di dimensioni. Quindi, insomma, questo S20 Ultra rappresenta un po' un azzardo, per certi versi, da parte di Samsung, per quanto riguarda le dimensioni, ma, chissà, potrebbe in qualche modo rappresentare un'alternativa, soprattutto per chi ha determinate esigenze. Per quanto riguarda la piattaforma hardware, qui abbiamo 12 o 16 GB di RAM abbinati a 128, 512 o 256 GB di memoria interna, anche in questo caso espandibili. Abbiamo detto, però, del comparto fotografico. Anche qui abbiamo quattro fotocamere posteriori, esattamente come l'S20 Ultra, però, la principale, da 12 MP f2.2, in questo caso è abbinata a una grande angolare da 108 MP f1.8 stabilizzata otticamente, poi abbiamo il sensore di profondità e poi abbiamo il teleobiettivo da 48 MP f3.5, anche questo stabilizzato otticamente. Grazie alla presenza del teleobiettivo, l'S20 Ultra ha a disposizione uno zoom ottico 10x, che, insomma, è già un dato estremamente importante, e addirittura uno zoom ibrido che può spingersi fino ai 100x, ed è, di fatto, il primo smartphone ad offrire uno zoom con questo livello. Devo dire che Samsung ci ha messo a disposizione delle postazioni per poter provare questo zoom 100x, 100x, e anche qui, esattamente come ho visto per l'S20 e l'S20+, ciò che mi ha stupito è proprio la capacità di questo zoom di mantenere il livello di dettaglio della scena, anche quando viene spinto al limite. Sono molto curioso di provare questo zoom, come dire, nell'utilizzo quotidiano, ma le premesse sono davvero davvero eccezionali. Lo dicevo all'inizio, Samsung ha un po' alzato l'asticella con questi smartphone, e, insomma, questo comparto fotografico è proprio l'esempio lampante di tutto questo. La fotocamera frontale dell'S20 Ultra poi sale a 40 megapixel. La batteria arriva a 5000 mAh, anche qui ricarica rapida e ricarica wireless. C'è la certificazione IP68, ovviamente presenti anche sensori di impronta e riconoscimento facciale. Insomma, un prodotto che, ripeto, rappresenta in questo momento probabilmente la massima espressione tecnica in ambito smartphone, ma ovviamente poi andrà testato nella quotidianità. Ovviamente, dettaglio da non trascurare, anche qui abbiamo un processore Exynos per quanto riguarda la variante europea. Probabile che questi smartphone negli Stati Uniti vengano venduti con lo Snapdragon, ma aspettiamo ovviamente dettagli da parte di Samsung, che poi non mancheremo di riportarvi nel link in descrizione, con l'articolo scritto, con tutte le specifiche precise approfondite di questi smartphone. Ci mancano solo i prezzi di questo S20 Ultra, che arriva in due varianti, da 12-128, 5G 1379€, da 16-512, 5G 1579€. Quindi l'S20 Ultra arriva solo in versione 5G. Due le colorazioni, black e grey. Insomma, prezzi importanti. L'S20 Ultra parte di fatto da 1379€, Samsung che si è un po', come dire, allineata anche a quella che è la proposta in termini di prezzi di Apple, almeno per quanto riguarda la fascia altissima. Insomma, sono dispositivi che, certamente a livello tecnico, lo ripeto ulteriormente, alzano l'asticella in ambito smartphone. Staremo a vedere se poi tutte queste premesse saranno poi rispettate in serie di recensione, ma, insomma, ho proprio l'impressione che ci siamo trovati di fronte a dispositivi di primissimo livello. In ogni caso, io vi lascio in descrizione il link all'articolo scritto, con tutte le specifiche tecniche nel dettaglio, con tutti gli aspetti più particolari di questi dispositivi. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa nuova gamma di smartphone proposta da Samsung. Io, per oggi, ho concluso e vi do appuntamento ai prossimi video.